Mossi dalla Carità è il titolo dell'evento promosso dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo che si terrà venerdì 18 novembre alle ore 18.30 nella sede del Parco della Scienza a Teramo e che vedrà protagonista il sacerdote Don Eugenio Nembrini, già missionario in Kazakistan e responsabile della Comunità Comunione e Liberazione di Roma e Lazio. Si tratta di un incontro di battito moderato dal presidente del CSV Abruzzo, casto di Buonaventura che si rivolge a tutti coloro che si impegnano nel volontariato. L'obiettivo è quello di riabbeverarsi alla sorgente ideale che muove il mondo del volontariato. Noi abbiamo tanti compiti, fra i quali è anche quello di mettere il punto su quelle che sono le sorgenti del nostro agire, del nostro muoverci. Non è soltanto cose da fare il volontariato, ma è soprattutto un'idealità che ci muove, che muove le persone che fanno il volontariato. E con questo incontro noi intendiamo proprio provocare in qualche maniera questo ritorno alla sorgente, partendo da ciò che muove le persone. Seguendo il filo di una sorta di intervista collettiva, le associazioni porranno a Don Nembrini domande basate sulle singole esperienze e sui bisogni molteplici e in crescita che operatori e volontari incrociano e vivono quotidianamente. Un prete sui generis, direi. Un prete moderno, a vederlo non sembrerebbe neanche un prete. Però ha vissuto l'esperienza della missione. Fare volontariato è una missione, in qualche maniera. E ha potuto vedere anche tutte quelle contraddizioni che ci sono nell'agire umano, a partire da se stesso. Scoprire ciò che ci muove non è importante soltanto nell'ambito del volontariato del terzo settore. È importante per tutto, perché tutti spesso ci lamentiamo di quello che stiamo facendo, perché magari vorremmo un altro lavoro, perché magari vorremmo un'altra situazione, vorremmo vivere altre circostanze. Ma in realtà quello che ci è dato è quello che viviamo. Possiamo essere felici anche facendo i conti con quello che ci è dato? Noi pensiamo di sì. E questo incontro vuole in qualche maniera aiutarci a scoprire il motivo per cui fare le cose può essere un fonte di letizia e di felicità.